Ciao, la novità letteraria che ti presento è un libro dove tre insetti nonostante la loro piccola taglia, hanno grandi aspirazioni. La trama del libro Le tre zanzarettiere di Virginia Stefanini, edito da Giunti, è la seguente. Per piccoli lettori in cerca di storie gustose, contesto ad alta leggibilità. Zelda, Zita e Zaccaria sono tre zanzare con lunghi nasi a pungiglione, essi sentono le perfette emule dei tre famosi moschettieri. Ma come fanno degli insetti a conoscere i personaggi di un libro? Semplice, nelle lunghe sere di estate passate a ronzare attorno alle orecchie di bambini e bambine, Zelda ha imparato a leggere e scrivere. Ora, insieme alle sue due amiche, Zelda ha formato un trio di zanzarettiere, pronte ad aiutare gli animali in difficoltà utilizzando i nasi a guzzi in modi sempre diversi e utili. Età di riferimento sette anni. Grazie per l'attenzione. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato, se hai voglia di condividere il tuo pensiero lasciami un messaggio. Per non perdere le novità letterarie iscriviti al canale.